Sono 1.328 di età compresa tra 3 mesi e 96 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. 916 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari a 9,31% perché sono stati eseguiti 4.166 tamponi molecolari e 10.090 test antigenici. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 5 nuovi casi di età compresa tra 67 e 98 anni. Uno in provincia dell'Aquila, tre in quella di Teramo e uno risalente ai giorni scorsi ma comunicato solo oggi dalla ASL. Sale dunque a 2.945. 710 sono invece i guariti. 416 pazienti, quindi meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica. 14 in tal caso il numero resta invariato in terapia intensiva mentre gli altri 69.344 sono in isolamento domiciliare. I nuovi contagiati sono così ripartiti. 290 in provincia dell'Aquila, 379 in quella di Chieti, 280 in provincia di Pescara, 331 nel Teramano, 30 fuori regione e 18 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.